Eurodigitale, innovazione e tecnologia blockchain è il titolo del workshop organizzato dalla BCC Fano in collaborazione con il gruppo bancario BCC Icrea e Namirial SPA, Società Tecnologica di Senigallia. L'obiettivo è di anticipare tematiche che saranno centrali per il futuro e che porteranno un cambiamento epocale come l'eurodigitale, cioè la digitalizzazione del contante. Un'iniziativa rivolta soprattutto ai professionisti, agli imprenditori, ai consulenti, ma anche ai cittadini. È possibile iscriversi al workshop che si svolgerà il 4 giugno al Tag Hotel attraverso il sito della BCC. Sono ancora disponibili alcuni posti e la partecipazione è gratuita. L'incontro inizierà alle 15.30 con la registrazione e il Welcome Coffee per poi lasciare spazio alle 16 all'inizio dei lavori. Un incontro formativo, la tematica euro-digitale è una tematica che abbiamo già affrontato due anni fa con l'attuale governatore Fabio Panetta della Banca d'Italia. Nell'ambito dei passaggi festival abbiamo promosso un'iniziativa di promozione del nuovo sviluppo dell'euro-digitale. L'incontro sarà martedì 4 giugno al Tag Hotel, 15.30 arrivi, Welcome Coffee e 16 inizio lavori. Abbiamo oltre i saluti iniziali da parte della Banca e di Namirial, che è la società e il partner tecnologico, società del territorio. Poi abbiamo la presenza di Andrea Coppini, il massimo esperto a livello di credito cooperativo nazionale sulla tematica del digital innovation. Abbiamo la presenza di esponenti della Namirial per quanto riguarda l'infrastruttura tecnologica a supporto dello sviluppo dell'euro-digitale. Euro-digitale e impatti economici e finanziari. Cosa cambierà per le aziende e per i cittadini? È un'opportunità in più. Euro-digitale significa moneta dematerializzata, un po' come lo stesso valore delle banconote e delle monete, come fosse un portafoglio, però in questo caso elettronico, spendibile immediatamente, senza commissioni, senza spese, sia da parte dei cittadini che da parte degli esercenti. Quindi è un'opportunità in più moneta di emissione pubblica, quindi con garanzia della massima sovranità monetaria per il progetto della Banca Centrale Europea e quindi un'opportunità di sviluppare il canale telematico attraverso questo strumento. E quale sarà l'impatto sulla competitività aziendale delle varie aziende? Sicuramente è un'opportunità che consentirà alle aziende, nell'ambito di determinati importi, perché non sostituirà tutto il sistema bancario, chiaramente delle carte di credito e di debito, perché il rapporto di debito-credito rimane. Qui parliamo, sostituirà in parte le banconote e le monete che vengono scambiate a livello materiale. È possibile trovare tutte le informazioni su un sito? Come sempre sul sito internet della banca www.fano.bcc.it